Ben trovati a tutti i nostri amici ascoltatori da Antonella Intranò Benvenuti a Spazio Aperto da Radio Science Web Network, buonasera Rosario Buonasera, buonasera Antonella Buonasera Massimo dalla redazione di pianetaoggtv.net Buonasera da Venezia, buonasera a tutti E benvenuto al nostro ospite Lorenzo Baldo, vice direttore della testata giornalistica online Antimafia 2000 Buonasera Lorenzo Buonasera Antonella e buonasera a tutti Allora Lorenzo, affrontiamo con te subito, entriamo subito in argomento Abbiamo tanto parlato la scorsa settimana con Salvatore Borsellino della manifestazione che c'è stata sabato scorso il 12 aprile A sostegno della richiesta del bomb jammer per la difesa del magistrato Nino Di Matteo pesantemente minacciato da Totò Riina So che tu hai partecipato appunto come direttore, come vice direttore scusami, della testata giornalistica Antimafia 2000 Vuoi raccontarci cosa è accaduto? Sì, guarda, prima di iniziare a parlare della manifestazione secondo me è importante, è proprio un inciso, l'antefatto diciamo Come si è arrivati a questa manifestazione con questa richiesta esplicita del bomb jammer per Di Matteo? Allora dobbiamo fare un po' di passi indietro E tornare diciamo al 14 ottobre 2013 quando il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, attuale vicepresidente della Camera Chiede presente e presenta un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Alfano e all'allora ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri E proprio per chiedere espressamente ai ministri se non ritenevano appunto importante predisporre tutte le misure necessarie alla massima protezione Nei confronti appunto dottore Di Matteo della sua scorta E per inciso appunto l'onorevole Di Maio chiede proprio sul bomb jammer Cioè vuole sapere perché ancora non è stato dato a Di Matteo la sua scorta A questa interrogazione parlamentare non viene data alcuna risposta Passano praticamente due mesi, il 3 dicembre Alfano si reca a Palermo per presiedere questo Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza E ovviamente viene discusso l'innalzamento delle misure di protezione per i magistrati sovraesposti Uno su tutti, diciamo soprattutto a Mino Di Matteo per le condanne, le vere e proprie condanne a morte Che sono state lanciate da Totorina che non sono solo miacce ma sono condanne a morte Perciò fa questo incontro diciamo con il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Dopodiché viene predisposta una conferenza stampa Ecco proprio alla nostra domanda, la domanda di Antimafia 2000 Sul perché non avesse ancora risposto a questa interrogazione parlamentare di due mesi prima Praticamente del perché, il problema invece era reale legato proprio al Bomb Jammer Alfano è molto diciamo stringato Risponde testuale, è stato reso disponibile il Bomb Jammer per Mino Di Matteo Perciò la cosa rimane ovviamente, viene subito diciamo rimbalzata dai mesi di informazione Le agenzie lo rilanciano, però in quell'occasione Alfano non spiega Che invece era stato diciamo data la disponibilità di una prima versione di questo Bomb Jammer Che secondo gli studi appunto del di Minale portava con sé una serie di problemi fortissimi Per la salute umana e di conseguenza lo stesso Di Matteo era stato costretto a rifiutare L'utilizzo di questo dispositivo antibomba Perché Ecco infatti ricordiamo Lorenzo Di questi dispositivi ne esistono diverse versioni Quello che appunto come dicevi tu era stato proposto a Di Matteo Era quello di prima generazione Esattamente Che è quello che provoca questi danni alla salute praticamente Ecco mentre sappiamo benissimo che sono stati già utilizzati dispositivi Di più moderna concezione che evitano tutte queste complicazioni per la salute E' corretto? E' corretto ed è qui che è proprio il quid diciamo della questione Perché in quell'occasione appunto il 3 dicembre Alfano fa questa dichiarazione Ma senza specificare appunto quale dispositivo Di quale dispositivo stiamo parlando E soprattutto non viene specificato una cosa importantissima Che verrà poi successivamente affrontata alla commissione antimafia Perché il 16-17 dicembre Alfano viene ascoltato alla commissione antimafia In trasferta a Milano E l'onorevole Giulia Sarti dei 5 Stelle Presserà fortemente Alfano per sapere appunto ancora su questa cosa del bomb jam Anche in quell'occasione Alfano dirà Che il dispositivo appunto è stato utilizzato in zone civili Quindi dà la conferma che comunque è stato già utilizzato Però ci sono allo Stato degli studi per verificare appunto i danni Questi test che devono essere fatti per verificare i danni alla salute umana E comunque sarà questione di pochissimo tempo al massimo di giorni Questo parliamo del 16-17 dicembre 2013 Ecco sono passati quattro mesi Nei quali sono state fatte fior fior di articoli Cioè la stampa un po' si è occupata di questo tira e mola Per capire perché questo dispositivo non veniva dato di Matteo Alla fine Salvatore Borsino ha voluto organizzare Una manifestazione nazionale il 12 appunto di questo mese Per avere risposte definitive su questa bomb jam In quell'occasione era previsto il suo incontro tra Salvatore Borsino e Alfano al Viminale Lo stesso Alfano aveva dato la disponibilità a incontrare il fratello di Paolo Borsino E era stato appunto Borsino aveva dato questo ok per la giornata stessa della manifestazione E la cosa gravissima che si è consumata in quella giornata è stato che Una volta che Salvatore Borsino è arrivato al Viminale Gli è stato detto che Alfano non c'era Per chi era a fare il congresso del nuovo centrodestra Non c'era nessuno a poterlo ricevere Tanto che Salvatore Borsino aveva raccolto quasi 6.000 firme in tutta Italia Di persone che volevano sostenere questa manifestazione Aggiungendoci appunto con la richiesta di avere notizie su questo bomb jammer E quindi dovevano essere depositate queste 6.000 firme C'è stata una trattativa quasi di un'ora per sapere come fare e come non fare Alla fine hanno fatto entrare una piccola delegazione di 5 persone Tra cui c'era anche Antimafia 2000 insieme a Salvatore Borsino E in una situazione paradossale Salvatore Borsino ha depositato queste firme A questi due ufficiali Questi funzionari del gabinetto del ministro Che non sapevano cosa dire perché erano impreparati Non sapevano nulla E con grandissima pazienza e dignità Il fratello di Paolo Borsino ha raccontato tutta la genesi Di quello che vi ho in parte sintetizzato adesso Spiegando che la motivazione per la quale lui avrebbe voluto incontrare Alfano Era proprio quella Chiedere notizie definitive Cioè una volta per tutte Sapere cosa sta succedendo attorno a questi test Perché non è possibile che un ministro dica Alla commissione antimafia è questione di giorni E passano quattro mesi senza sapere nulla E le misure di protezione dei confronti di Matteo sono altissime Perché lui è veramente condannato a morte dal capo di Cosa Nostra E quindi tutta la manifestazione è proseguita Nonostante questo mancato appuntamento tra Alfano e Salvatore Borsino Che noi lo abbiamo anche scritto Dimostra il totale disinteresse e la mancanza di rispetto istituzionale e umana anche Nei confronti del fratello di Paolo Borsellino Lorenzo, sono Ugo Lombardi Sì, ciao Ciao Lorenzo Il problema è, credo che si debba vedere anche da un altro punto di vista Diciamo che mi verrebbe voglia di pensare che non è solo un disinteresse Mi verrebbe voglia di pensare che è strategica questa assenza partecipativa da parte del governo Assolutamente, io ho usato un eufemismo ed era solo uno degli aspetti Diciamo sicuramente strategica ed è anche in mala fede Perciò non gli do per niente diciamo la buona fede a un'azione del genere E tutt'altro perché Alfano lo sapeva che doveva incontrare Borsellino Neanche ha avuto la cortesia così finta di mandargli un fax, una mail o una telefonata Il giorno prima per dire mi dispiace ho avuto un impegno e non posso esserci Neanche quello che non si nega neanche all'ultimo dei manifestanti Ma la cosa peggiore è che tra l'altro è stato detto congedandolo a Salvatore Borsellino Che se nell'arco della giornata Alfano avesse avuto la possibilità di incontrarlo Lui sarebbe stato avvisato Esattamente Sostanzialmente tanto Salvatore Borsellino quanto le oltre 350 persone Credo siano state a Roma Che erano lì a portare avanti questa richiesta con grande determinazione Devo dire perché ricordiamolo sono giunti da tutta Italia Sono giunti dalla Puglia, dalla Sicilia, dalle Marche, dall'Umbria, dal Lazio Oddio dal Lazio non era complicato però voglio dire oggi come oggi Uno spostamento è comunque uno spostamento Insomma e consideriamo anche la scarsa quanto è inesistente attenzione Che gli organi di informazione hanno dato alla pubblicizzazione e diffusione di questa iniziativa Possiamo dire veramente inesistente perché i grandi giornali Tutti, praticamente nessuno escluso Cioè non ha dato una riga nel giorno dopo Né due giorni dopo Né tantomeno oggi Cioè una cosa che io ritengo gravissima Soprattutto per certi organi di informazione Che sono sempre stati vicino a battaglie importanti Però non si può ignorare un evento del genere Cioè non è l'ultimo arrivato Salvatore Borsellino Al quale viene sbattuta in faccia la porta dal ministro dell'interno Quindi io penso che il ruolo dell'informazione Deve essere sempre vigile E chiunque Cioè soprattutto Diciamo dai mezzi di informazione Tra virgolette amici Noi ci dobbiamo aspettare un'attenzione Soprattutto Attenzione che manca Ed è proprio questo il pericolo maggiore Il pericolo maggiore Che chi si occupa di una strenua lotta alla mafia Come fa il PM di Matteo E tanti altri come lui Dobbiamo ricordarlo Assolutamente Ecco I magistrati che si sono occupati Si occupano e continueranno ad occuparsi Di questioni di mafia E che lo fanno rinunciando alla propria vita Perché insomma non c'è niente da fare Si fa una rinuncia chiara Si prende una posizione precisa Imprescindibile E tutti coloro che li circondano La scorta, i collaboratori I giornalisti che come voi Perché so che la redazione di Antimafia 2000 Segue da vicinissimo l'evolversi dei processi Di cui nessuno parla Perché non dimentichiamo che adesso corriamo il rischio Di vedere il processo trasferito da Palermo a Milano Questa è un'altra spada di Damocle, è vero Lorenzo? Questo è uno degli incubi peggiori Per chiunque si definisca onesto Perché dopo domani la Cassazione deciderà Se accettare l'istanza di rimessione Avanzata da tre degli imputati del processo trattativa Che sono gli ex ufficiali del ROS Mori, De Donno e Subranni Che hanno chiesto Praticamente di spostare la sede del dibattimento Appunto del processo sulla trattativa Stato-mafia Lontano da Palermo E hanno strumentalizzato Praticamente i rischi che sono veri Per quanto riguarda appunto L'incolumità di Nino Di Matteo Ma sono stati così Ci potremmo dire diabolici Perché hanno preso un fatto vero Che sono appunto queste minacce Che sono appunto, diciamo prima, condanne a morte E usate per dire Vedete, è importante che ci sia un clima sereno Che non ci siano le manifestazioni della società civile Come vengono fatte qui a Palermo Per sostenere magistrati È troppo rischioso Dobbiamo spostare il processo C'è una piccola postilla Che la gente dovrebbe sapere Spostando il processo Che la sua sede, diciamo, più ovvia Sarebbe Caltanissetta Qui in Sicilia Così dicono, diciamo, gli addetti ai lavori Significherebbe azzerarlo completamente Azzerare anni di indagini Anni di questo primo anno di dibattimento Praticamente Ma significerebbe proprio distruggerlo Perché subentrerebbe comunque Per certi versi la prescrizione Cioè, ci sarebbero magistrati Che dovrebbero ristudiarsi da capo Anni e anni, appunto, di faldoni Quindi significherebbe ucciderlo La morte civile per Di Matteo Roberto Tartaglia Francesco del Bene Vittorio Teresi Sarebbe veramente ucciderli civilmente E sarebbe la vittoria Non solo di Cosa Nostra Ma di questi famosi poteri occulti Questi mandanti esterni delle stragi Che da anni si nascondono Dietro le, diciamo, le pieghe Delle inchieste giudiziarie ufficiali Che vedono, ovviamente I capi di Cosa Nostra alla sbarca Ecco, questa è una cosa che Sta passando sotto silenzio Perché a parte il nostro giornale Qualche altro articolo Uscito sporadicamente O sul fatto quotidiano D'altre parti Si è parlato pochissimo Di questa decisione Che verrà presa fra due giorni Che può cambiare la storia d'Italia Perché se questo processo Viene appunto spostato Di conseguenza viene azzerato Non si potrà mai arrivare a sentenza Significa aver perso Un'occasione storica Di fare venamente Finalmente Giustizia e verità A 360 gradi Sulle stragi Che sono quelle di Falcone Borsellino Le stragi del 93 Ricordiamo Dove sono morti Inermi cittadini Che non c'entravano nulla Con la lotta alla mafia Perché E cito uno su tutti La strage dei Giorgofi Dove un'intera famiglia E un ragazzo Di 18 anni Sono morti Che non c'entravano Niente Questo perché Cosa Nostra Ha fatto sbriciolare La torre dei Pulci E questa famiglia È stata sepolta Viva Dalle macerie Il ragazzo è bruciato Anche lui vivo Per l'incendio Che si è propagato Quindi Questo il popolo italiano Deve capire Cosa Nostra è questa Che uccide chiunque Se poi rientra in un piano Che non è solo di Cosa Nostra Ma di queste entità esterne Che le sentenze Di processi passati Hanno appena sfiorato Questo è il primo processo Che potrebbe finalmente Rivelare Chi sono queste menti grigie Che trattano con la mafia A suon di bombe E chi sono queste entità Che stimolano A mettere queste bombe Come è stata Per la strage di Via D'Amelio Che Ricordiamoci Quella frase famosa Di Totò Rina Che disse Quando lui disse Facciamo subito La strage di Borsellino E tutta la cupola Ovviamente si zittì Perché a distanza Di 57 giorni Era troppo rischioso Fare una strage Così eclatante E Rina disse State tranquilli Mi hanno garantito Che è un bene Per tutta Cosa Nostra Allora Chi è che garantisce Al capo di Cosa Nostra Di fare la strage di Borsellino Che è un bene Per Cosa Nostra Se non entità esterne E potentissime Ecco Questo processo Che si sta celebrando A Palermo Sta cercando Di fare luce Su quell'entità E se verrà spostato Sarà la fine Lorenzo Verrebbe voglia Di fare Una Così Una Una richiesta Che potrebbe essere Anche Potrebbe sembrare Sagerata Ma credo Che sarebbe opportuno Forse Coinvolgere anche La comunità europea Visto che il fenomeno Mafioso è un fenomeno Non solo nazionale E credo che sarebbe Anche magari Provocatoriamente Chiedere aiuto Per questa tutela Per le nostre Autovetture Dei nostri magistrati Al governo europeo E magari forse Sarebbe anche Meglio rivolgersi Alla Merkel Visto che è l'unica Interlocutrice La più stimata Fra quelle contattate Dai governi Di altre nazioni Che ne pensi? Guarda ti posso dire Che Sonia Alfano La figlia del giornalista Ammazzato dalla mafia Beppe Alfano Nonché presidente Della commissione Parlamentare europea Antimafia Che ha presieduto In questi ultimi anni Si è battuta fortemente Per portare L'attenzione Del processo Trattativa In Europa E purtroppo Adesso il suo mandato Sta scadendo E salvo Diciamo Colpi di fortuna Lei non verrà Ricandidata E non ci sarà La possibilità Di rivederla A presiedere La commissione parlamentare europea Antimafia La speranza È che il prossimo Presidente Di questa commissione Sia ovviamente Un italiano Onesto E pulito Che possa prendere in mano Questa grandissima eredità Che l'Alfano Gli lascia Se lei stessa Non riuscirà a essere Rieletta E riconfermata In questo Perciò Ti posso dire Che già in Europa In quest'ultimo anno Soprattutto Si è parlato Tante volte Sia di questo processo E di cosa significa Il problema È dare continuità Mantenere accesa Perché in Europa Prima di questa Commissione parlamentare Antimafia Ti assicuro Che c'era Un'ignoranza incredibile Sulla pericolosità Di cosa nostra Non tanto In Italia Ma in Europa Nonché poi nel mondo Ovviamente Però qui stiamo Stiamo concentrandoci Sull'Europa Quindi il lavoro fatto Oltre che a Sonia Alfano Anche da Rita Borsellino Che da accanto su Lo stesso Ha lavorato fortemente È stato proprio quello Di spiegare La pericolosità Di cosa nostra Che non era solo Nella strage di Duisburg Che d'improvviso È come se avesse risvegliato Dal torpore I tedeschi E altri paesi europei È qualcosa di molto più Radicato Profondo E soprattutto Che coinvolge Tutti i paesi europei Mi pare di poter dire Lorenzo Che stiamo correndo Un altro grave rischio Gli strumenti Che abbiamo a disposizione Per la lotta Contro la mafia Sono pochissimi Purtroppo Bisogna combattere Anche Contro Una Ideologia Una cultura Che stenta Quasi a riconoscerla Perché ormai La mafia È talmente Come dire Ben imbrigliata Nelle maglie Della vita quotidiana Di ognuno Che Ormai È difficilissimo Identificarla La si confonde Con altro Se non addirittura La si dà per scontata C'è una certa mentalità Mafiosa Un certo modo di vivere Mafioso È considerato Oramai normale Ma quello che preoccupa Forse un pochino Sono la scarsità Degli strumenti Ora per esempio C'è il 416 ter Che sta Per essere modificato C'è una proposta A riguardo Vero? Ma questo Guarda Tocchino dei tasti Più dolenti In assoluto Perché Non so Ovviamente adesso Sono sotto gli occhi Di tutti I vari scontri Che ci sono stati In senato Cioè 5 stelle Si sono fatti sicuramente Promotori di una battaglia Fortissima Perché Traduciamo in soldoni Quello che è successo Diciamo Da una parte Allora finalmente Si arriverà Ad avere Diciamo Questa norma Che punisce L'accordo politico Mafio Lo scambio dei voti Politico mafioso Però dall'altra Non è così Come si sognava Lo stesso Giovanni Falcone Una Una legge forte Di quelle Diciamo Che stroncano Sul nascere Ogni possibile Iniziativa Qui abbiamo Due problemi Che dobbiamo focalizzare Il problema Soprattutto Che Le pene Che noi abbiamo In questo momento Per quanto riguarda Il concorso esterno Un'associazione mafiosa La stessa Associazione mafiosa Sono relativamente Basse Nel senso che Il nostro è un paese Che ha un DNA corrotto Nella stragrande maggioranza Quindi O noi No Diciamo Estirpiamo Attraverso appunto Delle leggi dure Rigidissime Forti Che si applicano Subito senza sconti Ma che devono essere Effettive E quindi non possono Essere Diciamo Che ne so Prendiamo ad esempio Questo 416 ter Che si passa Si è diminuito Adesso è diventato Da 4 a 10 anni Però Se viene appunto Beccato Questo scambio Politico Tra un politico Mafioso Per voti Con altre utilità Che non sono solo Ovviamente lo scambio economico Ma tutt'altra cosa Ecco Di questi 4 anni Ad esempio Se poi finisce Che uno se ne fa solo uno E poi alla fine Cioè neanche uno diventa Cioè è evidente Che chiunque continuerà A delinquere A scambiare Favori con i mafiosi Perché tanto sa Che qualora Dovesse essere Diciamo Beccato con le mani Nel sacco Alla fine Non è che Ci perderà tanto Questo è il nostro problema Alla base Quindi Se noi dovessimo Se noi volessimo Veramente Estirpare Il cancro mafioso Da questo punto di vista Che è uno dei peggiori Perché ricordiamoci Che Cosa Nostra Non sarebbe così potente Se non avesse Gli agganci Politici Imperatoriali Dell'alta finanza Financo in Vaticano Sappiamo che le inchieste Dell'omicidio Calvi Sono arrivati Fin dentro Il Vaticano Quindi Rendiamoci conto Che è un sistema criminale Dentro il quale Si muove Cosa Nostra E che la rende così forte Quindi solo Se cambiamo Radicalmente Questo sistema Appunto Ripeto Attraverso nuove leggi Nuove norme Che puniscano fortemente Il semplice La semplice promessa Di disponibilità Quando un politico Si mette a disposizione Di Cosa Nostra Che poi Lo faccia o meno Che poi Ne ricavi utilità o meno Secondo me La semplice promessa Di disponibilità Di andare a braccetto A prendersi un caffè Con quel mafioso Che non è un reato Ovviamente Ma significa tanto In una terra come la Sicilia E non solo Ecco Se noi Focalizzassimo Partendo proprio Da questo Allora si potrebbero cambiare Le cose Però Ci perdiamo in Disquisizioni Giuridiche Tecniche Spacchiamo il capello In quattro Così E nel frattempo Il DNA corrotto Avanza I Appunto Questi accordi Si continuano a fare Le promesse Si continuano a fare Capisci È un problema Proprio alla radice Che va Cambiato Perché Come dicevi prima I mezzi vengono tagliati Sotto tutti i punti di vista Dalle forze di polizia Ai magistrati Fino ad arrivare Praticamente All'istruzione Dove un insegnante Che vuole fare Educazione alla legalità Si ritrova a farlo Solo perché lo vuole fare Di sua iniziativa Non è sostenuta Da un programma Diciamo Del ministero Dell'istruzione Per dire Invece il nostro È un paese Che dovrebbe prevederlo Cioè togliere Magari qualche Ora In qualcosa Così di teorico E invece Spiegare Ai ragazzi Che era la vecchia Educazione civica Dovrebbe essere Semplicemente Rimodulata Trasformata Capisci Questo è un lavoro Ma molto ampio Esattamente Ma forse Dovrebbe cambiare qualcosa Anche nel nostro Vivere quotidiano Beh quello Sicuramente Perché Ricordiamoci che C'è quel famoso Detto Sì Il cambiamento Che vuoi vedere Nel mondo Ed è vero Perché se noi Per primi Non attuiamo In un certo modo E significa Cosa Non accettare I più piccoli Compromessi Dalla raccomandazione A qualsiasi cosa Che riguarda La nostra vita Lì significa Cambiare il meccanismo Ma È veramente Un problema italiano Del tutto italiano Perché penso Che il nostro paese Non ha uguali Su questo Quindi È un lavoro Che andrebbe fatto Per quello Importante Dalle elementari Parlare ai bambini Io Apri una parentesi Secondo me Importante Da Praticamente dal 20 gennaio Viene fatto Tutti i giorni Davanti al Palazzo di Giustizia Un presidio Di scorta civica Che significa Un cartello di associazioni Liberi cittadini Per sostenere Di Matteo Per dire Se lo Stato Non ti protegge Ci siamo noi Ecco In questi Praticamente Tre mesi Quanti siamo Dal 20 gennaio in poi Si sono intervallati Tantissimi Personaggi Sono venuti Alcuni esponenti Politici Ma la cosa più bella Secondo me Che sono venute Delle scuole Che continuano A venire scuole Addirittura L'altro giorno C'erano Delle classe Di terza elementare Quinta elementare Questi bambini piccoli Portati con le loro insegnanti Che fanno veramente Un miracolo Perché vi lascio immaginare Cosa significa Qui a Palermo Spiegare ai bambini La lotta alla mafia Il sostegno ai magistrati Quando vivono situazioni Molti di loro Aghiaccianti In quartieri a rischio Con una subcultura Mafiosa Pazzesca Quindi abbiamo visto Questi bambini piccolini Con i loro grembiuli blu Davanti a questo gazebo Della scorta civica Davanti al Palazzo di Giustizia A sostenere Di Matteo Allora questa è la speranza Cioè vedere questi ragazzini Questi bambini E pensare che sono loro Che se cambieranno La loro testa Da bambini Possono diventare Dei futuri uomini E donne Consapevoli Che voteranno persone oneste Che non cedranno al pizzo Che denunceranno Questa è la risposta Lorenzo Scusami Prendo al balzo Quello che dici Perché Nell'ipotesi Che qualche scolaresca O anche le loro insegnanti Non possono venire lì a Roma Non pensi che sarebbe opportuno Capillarizzare questa informazione Cioè andare noi E chi ha questo problema A cuore Andare all'interno Delle strutture scolastiche Agli angoli delle strade Occupare spazi Che loro non ci vogliono dare Visto che l'informazione ufficiale È tutta occupata da loro Dovremmo noi Andare per strada Angolo per angolo Scuola per scuola E illustrare quali sono I problemi collegati Alla mafia Questo dovremmo fare anche Perché questo significa Combatterli sullo stesso piano Loro Con lo stesso terreno Completamente d'accordo Ugo Calcola che È un lavoro Che viene fatto Ovviamente da tanti anni Da Libera Di Donciotti Da parte nostra Da quando esiste il nostro giornale Continuiamo ogni tanto Andare nelle scuole Oltre che fare conferenze Diciamo classiche Aperte al pubblico Puntiamo molto Su questa Perché è la base Come ti dicevo prima Soprattutto poi Dai più piccoli Che paradossalmente Sarebbe Sembra quasi Impossibile Riuscire a spiegare A un bambino Di terza elementare Invece Invece si può Perché tu pensa Che questi ragazzini Le loro insegnanti hanno creato Un fumetto Dove praticamente Nio Di Matteo Viene rappresentato Come un pulcino Che segue le orme Dei grandi Che sono Falcone Borsellino E questo fumetto Che sembrerebbe Una cosa così Molto semplice Invece Entra nelle teste Di questi bambini Quindi loro capiscono Che questi piccoli Stanno seguendo le orme Di grandi personaggi Che sono stati uccisi Da questo male Che si chiama mafia Capisci? Quindi È da lì Che bisogna partire Da lì Dobbiamo recuperare Anche il concetto Di Stato Seguire sicuramente Magistrati Importanti Sicuramente Ma anche Inculcare il concetto Di Stato Lo Stato Siamo noi Insomma È un concetto Che deve essere Inculcato nei bambini Sin da piccola età E quindi tutela Dello Stato Tutela delle leggi E delle regole Dello Stato Dicevi prima Delle raccomandazioni Degli accordi Dei sottosfugi Ecco Ricomporre Recuperare Questi valori Insegnarli Sin da piccoli Ormai abbiamo Abbiamo dimenticato Queste cose Diciamo che Nella società Ormai ognuno Fa il furbetto Perché fa operazioni Che non sono lontane Da quelle Mafiose Però bisognerebbe Recuperarle Bisognerebbe Quindi tornare A comportarsi In maniera Corretta Insegnare A tutelare Lo Stato In questo modo Insomma Sono completamente D'accordo Anche Tico È un lavoro Su vasta scala Nel senso Che così Come nel piccolo Come diciamo Prima nelle scuole Con i bambini Con i ragazzi Così come nel grande Perché di fronte A una controinformazione Che ci bombarda Veramente Con notizie O false O mistificate C'è un popolo intero Che secondo me Da più di vent'anni È bombardato Da questa Quella che è un'arma A tutti gli effetti E ha prodotto I suoi Ha prodotto Veramente I suoi effetti Perché Dopo Una sorta di anestesia Totale Molta parte Diciamo Degli italiani Ha perso Uno spirito critico Ha perso Un potere Di analisi Quindi Tutto Tutto viene Metabolizzato Velocemente Le notizie Tutte diventano Tutte possono andare bene Perciò Una Che ne so Una condanna Dove c'è stata Una prescrizione Una soluzione Con una prescrizione Diventa Assoluzione Immacolata L'esempio è Ovviamente La sentenza Andreotti Che aveva questa macchia Gravissima Dei suoi contatti Lo stesso Andreotti Con i capi Di Cosa Nostra Fino al 1980 Per il popolo italiano È passata Come una soluzione Senza macchia E quindi È un esempio Questo Oppure abbiamo adesso Un latitante Come il senatore Dell'Utri Che si permette Di scappare Tranquillamente In Libano E di bloccare Un intero sistema Giudiziario Perché in questo momento C'è una sentenza Di Cassazione Che è bloccata Doveva esserci Ieri I suoi avvocati Potremmo dire Furbescamente Si sono dati Per malati Praticamente Uno si è fatto ricoverare L'altro ha messo In mezzo Un problema Al ginocchio Quindi La corte di Cassazione Ha Diciamo Accolto Le istanze Gli avvocati Dell'Utri Che hanno chiesto Di rimandare Questa sentenza Ma anche lui Mi pare che abbia Salute cagionevole Lo stesso Sì Ma in mezzo A tutto questo C'è una vera e propria Fuga C'è che E soprattutto C'è un sistema Che permette A un condannato A sette anni Per concorso esterno In una associazione mafiosa Di fare il bello Il cattivo tempo Cosa che sta succedendo Perché Lui ormai Per quanto possa mettere di mezzo I propri problemi di salute E solo Dio sa Se sono veri o meno Cioè lui di fatto Sta veramente tenendo Sotto scacco Un intero paese E tutto va bene Contemporaneamente Abbiamo un pregiudicato Condannato per frode fiscale Come Berlusconi Che si permette Adesso Nonostante è stato affidato Ai servizi sociali Di fare campagna elettorale Ma in quale altro paese civile Io penso che Un condannato In via definitiva Avrebbe la possibilità Di fare campagna elettorale Siamo veri oltre Non solo Penso Non solo sta facendo Campagna elettorale Ma sta discutendo Con Renzi Delle riforme Cioè noi stiamo Stiamo affidando Il futuro del nostro paese A un pregiudicato A un condannato A un condannato Però io ritorno a dire Che il problema maggiore C'è un popolo Che permette Perché loro Diciamo I sistemi criminali Sono fra virgolette Coerenti Con la loro linea E chi ne fa parte È coerente Fra virgolette Ma un popolo Che permette Tutto ciò Oltre che essere complice È colpevole Ancora di più Perché Assolutamente La condenza È altrettanto Condannabile Assolutamente Io ti dico Sono molto Cioè Mi fa molto più Veramente Più rabbia Parlare proprio Del Cioè Del popolo E di quello Che potrebbe fare Perché se noi fossimo Un popolo con dignità Come Cioè Altri paesi europei Cioè Non avremmo mai permesso Una cosa del genere Ci sarebbero state Manifestazioni di piazza Centinaia di migliaia di persone A protestare Contro un condannato Che non può fare Campagna elettorale Cioè Tutte queste cose qui Invece c'è un silenzio assordante Di una società assente Appunto Anestetizzata O colpevole E poi Piccole minoranze Come appunto Le varie organizzazioni Da Libera Salvatore Borsellino Pochi giornali indipendenti Come il nostro Ma piccole sacche di resistenza Che cercano di dire Fermatevi tutti Perché qua Stiamo andando verso il baratro Sembra veramente Il Titanic E l'orchestra Che continua a suonare Praticamente Ma infatti Lorenzo Secondo te Alla luce di tutte Di tutti questi Questi fatti Drammatici Di cronaca Che per me Sono drammatici Anche se non sono in nera Ma Secondo te Qual è la percezione Che ha oggi La comunità La collettività Della mafia E qual è la concezione La percezione Che ha dello Stato Beh Domanda molto impegnativa Nel senso che La percezione Se non è minima Perché A parte appunto Come dicevo prima Queste secche di resistenza C'è quello che Il messaggio che passa Diciamo alla massa È ovviamente Che finché non ci sono Nuove stragi Nuove morti Così la mafia C'è Non c'è Punto di domanda C'è quest'ultimo Super latitante Messina Denaro Che al momento È ancora fuori Quindi Si tende molto A semplificare E la cosa appunto Gravissima È che Semplificando Si finisce per ignorare Invece il reale Pericolo Quindi Diciamo La grande massa Dell'opinione pubblica Non è consapevole Di tanti aspetti Diciamo Dalla potenza Della mafia Dal rischio Nuove stragi Dal processo Sulla trattativa Che si sta facendo Tutte queste cose Messe insieme Sono solo Per gli addetti ai lavori O per chi Ha uno spirito Di ricerca E va a cercare Su siti Di informazione libera O si compra Certi giornali Ma sono veramente Piccoli Esempi Quindi Noi dobbiamo Ribaltare Questa situazione Ma è un lavoro Come dicevo prima Veramente Ad ampio raggio Nel frattempo L'unica cosa Che possiamo fare È cercare Di sensibilizzare Il più possibile Oltre a chi ci sta vicino Anche attraverso Appunto Una sorta di Tam tam Mediatico Ognuno che proprio Medi Da facebook A cose Trasmettendoci Come un virus Diciamo Tutte le cose Più importanti Nel senso Positivo Ovviamente Ma Non ci illudiamo Che la grande Massa Sia ovviamente Consapevole Di tutto ciò Al momento È un po' Anestetizzata Un po' Colpevole Un po' Complice C'è tutto un insieme C'è una galassia Intera Praticamente Io direi Che c'è Un metodo Che dovremmo Anche noi Adottare C'è un metodo Penso identico A quello adottato Dai malabituosi Cioè i malabituosi Si sono radicati All'interno Della società Con un metodo Direi quasi scientifico Aiutati anche Dalle iniziative politiche Che hanno badato A rendere difficile La giornata Il quotidiano Ad ognuno di noi Tanto che non possiamo Fare altro Se non pensare A cercare di guadagnarci Il cibo Fra virgolette O la pagnotta Fra virgolette Del quotidiano E non poter pensare A quello che ci sta Accadendo attorno Credo che dovremmo Fare Intraprendere Iniziative del genere Identiche Cioè Come dicevi tu Giustamente Non soltanto Tutto quello che abbiamo Dobbiamo cercare di farlo Cioè Dal punto di vista Informativo Ma io credo Che dovremmo Scendere per strada Anche noi Cioè noi dovremmo Occupare Gli angoli Delle strade E dare informazioni Con filmati Cartelli Tutto quello che vogliamo Perché se no Ripeto Sono gli unici posti Che sono rimasti Forse ancora liberi L'informazione ormai È tutta occupata Da loro Tranne piccoli spazi Per cui Alternative Non ne abbiamo Credo Che ne pensi Lorenzo? Guarda Ugo Sono d'accordo con te L'unico problema È ovviamente Organizzare tutto ciò Perché L'esempio diciamo Concreto è questo Che quando Una persona come Salvatore Borsellino Organizza un evento Per scendere Proprio in piazza A protestare È evidente Che non si possono muovere Anche lì Immense masse Vengono Le persone Che sono più sensibili Che riescono a gestirsi Tutti Con le proprie spese Quindi Il problema È proprio organizzativo Nel senso che Se in ogni territorio In ogni regione Queste associazioni Questi gruppi Si unissero di più Io penso che sarebbe Un grande punto di partenza Il problema è che Diciamo Le forze positive Fra virgolette Sono molto frastagliate Molto spesso Troppo divise Fra di loro Paradossalmente Sono molto più organizzate Le forze negative Criminali Che mettono come obiettivo E lo perseguono Le forze del bene Sono molto più A volte stupide Per usare un eufemismo Perché A volte O si fanno la guerra Fra di loro O cercano Praticamente Di accaparrarsi Delle agevolazioni Ed è un errore gravissimo Noi dovremmo avere Un obiettivo comune Sconfiggere la mafia E soprattutto Sconfiggere i collegamenti Con i colletti bianchi Con i colletti bianchi E diciamo L'entità esterna Ma anche Darsi una mossa Esattamente Con la consapevolezza Che ogni momento Deve essere utilizzato Per trasmettere Questi valori A chi non li conosce Ragazzi Studenti Scuole Allargare Questa cosa Sì Dunque Lorenzo Sono certa Del fatto Che Massimo Dalla redazione Di pianetaoggtv.net Abbia delle news Molto importanti Sulla salute Di Dell'Utri Per la quale Siamo tutti Estremamente preoccupati Hai qualcosa Da dirci Massimo? Sì Dunque Prendo la linea Qui dalla redazione Di pianetaoggtv Apro una parentesi Io non è che sia Preoccupato Della salute Di Dell'Utri Veniamo Chiusa parentesi Veniamo Alla notizia Dunque sì Ma come non sei Angosciato Scusa Non mi provocare Altrimenti poi Dico delle cose Che vado Oltre il confine Giornalistico Diciamo così Va bene Comunque No Qui è un problema grosso Saluto Lorenzo Obaldo Vice direttore Di Antimafia 2000 Cioè Effettivamente Ha toccato Dei punti Fondamentali Una spiegazione Veramente Dettagliata Come dettagliati Sono i suoi articoli Che io Ho sempre Con piacere Di pubblico Nella mia testata Pinetaogitv.net Ha detto una cosa Molto bene Lorenzo L'unione delle forze Questo ci deve essere Le forze del male Sono sempre unite Invece noi Ci spacchiamo Continuamente Sostanzialmente Ecco Il fatto anche Della non presenza Dei media Quelli che sono Diciamo Con la nostra linea Editoriale Che non erano A Roma Durante La manifestazione Per la tutela Di stati Antimafia Palermo Ecco Questo la dice Lunga Insomma Sono molte televisioni Lì a Roma Possibile Che neanche una Dico E sottolineo Neanche una Sia venuta A fare due passi In piazza E battare una persona E riprendere un po' Tutta la situazione Comunque Andiamo avanti Noi abbiamo fatto Un'ottima diretta Sabato A partire Dalle ore 11 Con speciale Ecco Mondo 2000 E sono andati avanti Non stop Sino alle 24 e 40 Circa Tra cui ricordo Anche i nostri Ascoltatori Che abbiamo avuto Collegato in diretta Proprio Lorenzo Bardo Vengo alla news Dunque Oggi c'è stato Il ricovero In un ospedale Di Beriut Dell'ex Senatore Di Forza Italia Dell'Urti E' stato deciso Per ragioni Umanitarie Che nulla Hanno a che vedere Con la procedura Di estradizione Richiesta Dall'Italia Come riferisce Il suo avvocato Libanese Al Khalil Non vi sono Novità Sul piano giudiziario Che io sappia La richiesta Dice Documentata Di estradizione Non è ancora Arrivata Dall'Italia E a complicare Le procedure Per ottenere Per ottenerla Arriva La richiesta Di Dell'Utri Di tradurre Tutti gli atti In arabo L'ex Senatore Resta comunque Agli arresti Anche in ospedale Ricordiamo che Il nosocomio Scelto E dotato Di un padiglione Per i detenuti Linea Bari Bene A questo punto Non ci resta Che organizzarci Lorenzo Abbiamo individuato Quali sono i percorsi Che potremmo compiere Siamo già In corsa Per quelli Che stiamo cercando Di fare E cioè L'informazione Tutto quello Che vogliamo Io dicevo prima Una battuta Diamoci una mossa Ma non è tanto Una battuta Io credo Che dovremmo Anche noi Diciamo Risvegliare Le nostre capacità E credo Che siano tante Non soltanto Comunicative Ma anche Informative Perché Se non facciamo Altrettanto Anche noi Rispetto alla Disinformazione Della stampa Credo che La gente Non potrà Conoscere Questi particolari Nessuno ha Interessi A comunicarli E quindi Dobbiamo farlo Noi Sono completamente D'accordo Ugo Penso che In questo momento Storico Ognuno di noi Deve Riacquistare Consapevolezza Del proprio ruolo Qualunque esso sia Appunto Sia dall'informazione Ma anche Nella vita quotidiana Di una persona Che è impegnata Normalmente Nel proprio lavoro E comunque Dedica Parte del proprio Tempo libero A una causa Cioè non è più tempo Di aspettare O fare gli spettatori Diciamo Sugli spalti Noi dobbiamo scendere In campo E sostenere Soprattutto Chi ha dei ruoli Di primo piano In questa partita Che si sta giocando Perciò Magistrati come Di Matteo Tartaglia Teresi Del Bene Devono essere Tutelati Devono essere Veramente Sostenuti Perché Sono rimasti Sempre più soli E anche Dall'interno stesso Della magistratura La cosa più grave Io ritengo Veramente un obbrobrio Noi qui tocchiamo Con mano a volte L'isolamento Di questi 3-4 magistrati Che hanno il processo Sulla trattativa All'interno stesso Del loro ufficio Ecco Di fronte a questo isolamento Che è l'anticamera Poi Del rischio Della vita Perché sappiamo benissimo Che c'è Delegittimazione Isolamento Ed eliminazione fisica Prima che possa Avvenire tutto questo Dobbiamo essere A fianco Con ognuno Col proprio ruolo E essere consapevoli Dell'importanza Che la nostra presenza E la nostra consapevolezza Di quello che sta succedendo Ha in questo momento Ecco Lorenzo Credo che Sarebbe interessante Sarebbe stato interessante Sarebbe tuttora interessante Vedere La classe di altri magistrati Avvicinarsi Ai loro colleghi Io credo Che non sarebbe Soltanto un problema Di natura deontologica Ma anche Umanitario E noi Auspichiamo Che avvenga questo Cioè che ci sia Un maggiore coinvolgimento Anche del pool Di tutti Di tutti i giudici Che vogliono essere Più vicini Al loro collega E poi Credo che Dovremmo spiegare Anche ai nostri ascoltatori Ma anche a chi ci sta vicino Che il problema Naturalmente Non interessa altri Interessa soprattutto loro Perché Conoscere e sapere Che un sistema Manavitoso Gestisce e regola La tua vita Credo Che debba far risvegliare Un po' Le coscienze di tutti Lorenzo Sì Abbiamo una sorpresa Per te Sì Sono qui Ecco Ma la sorpresa È un po' timida Aspetta Lorenzo Sono un incubo Per te Ti perseguito Anche sul radio Saiuz È arrivato Savino Ciao Savino Bella Bella sorpresa È inaspettata Decisamente La mia sorpresa C'è sempre te Perché comunque C'è sempre da imparare Grazie È una cosa soggettiva Ma non è Perché sei te presente Ma a mio parere Sei il miglior giornalista Del mondo Beh allora Cominciamo a ridimensionare La cosa Non è raccomandato Lorenzo Diciamo che Vieni prima Poi viene trovato È un po' di parte È meglio che ridimensioniamo La cosa Diciamo che Faccio il mio dovere Savino Cerco di mettere Al servizio Diciamo quello che Che posso Perché Penso che Come dicevo prima Ognuno di noi Abbiamo una responsabilità Chi scrive Deve scrivere Come diceva Pippo Fava Sapere che Il tuo fare giornalismo Può contribuire A migliorare la società Io spero che Attraverso i nostri articoli Al nostro lavoro Possiamo gettare appunto Un seme Per migliorare Questa società Quindi Lo reputo veramente Un mio dovere Poi Poi sono sicuramente Sulla strada Di grandi miglioramenti Che dovrò fare Sempre più Come ognuno di noi Nella sua vita Dovrà fare Per migliorare Quindi veramente Il lavoro Ce n'è C'è tanto Ancora da fare Resta comunque Il fatto che Il tuo dovere Lo fai Perché sei un giornalista Serio Ma Poi visto che Stiamo parlando Di questa tematica Secondo te Cosa dovrebbe fare Il paese Per avere Una comunicazione Reale Così Che poi Pilotano I media Diciamo Che non è Che si può avere Una Una soluzione Così Nell'immediato Ci vorrebbe Sicuramente Una richiesta Diciamo Generale Da parte Dell'opinione pubblica Perché se Se l'opinione pubblica Si facesse sentire Con forza Dico In due Aspetti Diciamo Basilari Diciamo Da un punto di vista Di boicottaggio Perché Se le Trasmissioni Quelle di Controinformazione Nel senso negativo Ad esempio Porta a porta O altri programmi Dove Vengono attaccati I magistrati E vengono esaltati I condannati Ecco Se trasmissioni Come questa Perdessero Totalmente Diciamo L'ascolto Ecco Sicuramente Verrebbero a cadere Questi pilastri Della controinformazione Nel senso negativo Oppure Se personaggi Come Vittorio Sgarbi A questi personaggi Venisse tolto Il microfono E non amplificata La voce Si spegnerebbero Da soli E quindi Si potrebbe dare Più spazio A gente Come Ginostrada Dunciotti E quindi L'informazione Cambierebbe Ma ci vorrebbe Una rivolta Popolare Nel vero senso Del termine Perché Noi siamo Dei grandi Abbiamo un grande Potere Nel nostre mani Che è appunto O il boicottaggio Che significa Che se noi Decidiamo Che quel prodotto Sia esso Un dentifricio O sia un programma Televisivo Non lo vogliamo Quel prodotto Muore Ovviamente Perché non avendo Una richiesta Muore Quindi È forte Il potere Che ha l'opinione pubblica E non se ne rende conto O non lo vuole usare O non è organizzata Per farlo Ma Noi così Potremmo pretendere Una libera informazione Se Cominciassimo a chiedere Appunto Programmi veri Non sempre Con gli stessi personaggi Che vogliono solo Gridare Cito uno per tutti La Santanchè Che viene invitata Costantemente In un programma Come quello di Santoro Dove c'è per dire Un Marco Travaglio Che fortunatamente Fa da contraltare Ma perché invitare Chi vuole solo portare Diciamo Rabbia E soprattutto Disinformazione Come una persona Come lei Quindi fino a quando Il sistema Mediatico Darà spazio A questi personaggi Sarà molto difficile Che la gente Cominci a capire Veramente le cose Come stanno Ma sta a noi Far cambiare la musica Perché Ripeto Se noi Spegniamo La tv Quando compaiono Certi personaggi E quel programma Gli ascolti Crollano Ovviamente Abbiamo un potere Che dobbiamo esercitare Quindi Ritorno a dire Che deve essere L'opinione pubblica A pretendere Questo cambio Di informazione E nel frattempo Certo che Noi Operatori Dell'informazione Abbiamo questo dovere Di continuare A mantenere fede A quell'impegno Appunto Di Pippo Fava Che vedeva L'informazione Come Un contributo Al miglioramento Della società Ma il problema Che purtroppo Siamo Nella fase opposta Dove i poveri Liberi cittadini I giornalisti Sono quelli Che o Fanno la fame E cercano Disperatamente Di resistere Per farsi pubblicare Un pezzo Per avere uno spazio Sul sito O su una televisione Privata Ma È veramente Un paese Allo sfascio Se costringe Elementi più libere Elementi critiche A fare una vita In sottobosco Questa è la cosa Più grave Secondo me Che dovrebbe essere Ribaltata Anche in questo caso Da nuove leggi Per la libera editoria Tutto questo sistema Dovrebbe essere ribaltato Perché È uno dei pilastri Della democrazia La libera informazione Lorenzo Mentre Rispondi a questa domanda Mi sono Mi hai fatto ricordare È un ragazzo Che ha lottato Sia per la comunicazione E sia per l'antimafia Questo nome Mi è venuto Perché mi hai citato Sgarbi Ora non voglio entrare Sulla polemica Del vilipendio Sul napolitano E sul caso Delle querile Tra Giorgio Giovanni E Sgarbi Però potresti raccontarci Brevemente La storia di Giuseppe Gatti Visto che è molto intrecciata Con quella di Vittorio Sgarbi Ma questo ragazzo Siciliano È una storia Veramente un po' triste Perché lui Si limitò A Quando appunto Sgarbi In uno dei suoi Tanti convegni Dove non perde l'occasione Per insultare Attaccare i magistrati Sia in passato Quando c'era Caselli Siamo tutti Diciamo Memory Degli attacchi Velenosi Che lui vomitava Dalla tv Sgarbi quotidiani Il suo programma Su Canale 5 E anche In questa rubrica Omonima Pubblicata dal giornale Quindi in una di queste Suoi trasferte Ovviamente Nuovamente attaccò La magistratura E questo giovane Di domanda Continua a martellare Chiunque Abbia dei dubbi Sul fatto di Difendere o meno Una causa Questo ragazzo L'aveva fatto Perché Difendendo il pool Di Caselli Il pool antimafia Difendeva la Magistratura più Nobile del termine Che veniva invece Denigrata Sbeffeggiata Violentata Dalle grida Di Vittorio Sgarbi Che appunto Continuano Imperversare Come dicevo prima Perché gli viene Dato un microfono Il problema è Come disse una volta L'ex sindaco Di Londra Nei confronti Di Berlusconi Quando disse Lui non dovrebbe Avere questa Attenzione mediatica Dovrebbe finire Nel cestino Della storia Ecco io dico Che persone come Sgarbi Dovrebbero finire Nel cestino Della storia Perché fino a quando Gli continueremo A dare visibilità Questi personaggi Continueranno A vomitare addosso Insulti Violenze gratuite Quindi Il ricordo Di questo ragazzo Pulito Che diceva questa frase Io difendo la mia terra E tu Ecco dovrebbe essere Insomma un monito Per ognuno di noi Per dire che faccio Nella mia vita La difendo La mia terra E comunque in generale La causa che intendo Servire di giustizia Qualsiasi esso sia Facciamocela questa domanda Perché penso che sia Veramente importante Cioè Non sprecare la vita Bene Lorenzo Noi ti ringraziamo Ti ringraziamo davvero tantissimo Per il tempo Che ci hai voluto regalare oggi E per l'estrema chiarezza Che Come sempre Ti contraddistingue Hai utilizzato Nel Darci Una panoramica Mi pare di poter dire Assolutamente Completa Rispetto Agli avvenimenti Di Di sabato A Roma Rispetto a quella Che è la mafia Oggi nella nostra società Nella nostra società Grazie a Benissimo Benissimo anche grazie ciao Lorenzo Baldo e buon lavoro grazie anche a te, grazie ciao Lorenzo, a presto allora Massimo Bonella? sì, siamo qui Bonella, sei in Veneto? per il momento siamo in Veneto io prima quando sono rientrato non ho visto, non ho passato confini quindi insomma fin da prova contraria siamo ancora in Veneto vedo che ti affascina questo argomento mi fa molto ridere cosa posso fare? mi diverte molto forse non mi diverte ridiamo perché effettivamente hai delle news Massimo? sì, ne abbiamo un'altra dall'Ucraina dunque ci sono delle truppe ucraine che si arrendono ai filorussi comunque per questa notizia io adesso ve la do così come ci arriva dalla rete comunque per degli approfondimenti invito tutti i nostri ascoltatori a consultare la televisione online la nuova televisione online Pandora TV RT al sito Pandora TV punto it ecco per chi entra sull'altro sito cioè Pandora TV punto org poi automaticamente va comunque in punto it quindi comunque il sito è Pandora TV punto it dunque detto questo vediamo un attimo questa notizia così al volo mentre le diplomazie sono al lavoro per scongiurare l'escalation della crisi i focolai accesi nell'Ucraina orientale vengono alimentati in continuazione rendendo più difficile la soluzione dunque a Kramatorsk e a Slovniask una colonia di truppe ucraine è stata costretta dagli insorti filorussi a consegnare i meccanismi di sparo solo così ha potuto proseguire intanto il partito delle regioni dell'ex presidente Juknovich ha chiesto a Kiev di cessare le azioni antiterrorismo e ai filorussi di abbandonare i palazzi governativi occupati questo è quanto vi posso dire al momento dalla redazione comunque ripeto per maggiori informazioni consultate la televisione online Pandora TV punto it che allora lì abbiamo delle praticamente c'è in onda un telegiornale della nostra televisione intercontinentale la RT Russian Today che trasmette via satellite che trasmette lo ricordo in lingua inglese che comunque viene tradotta grazie a Pandora TV grazie alla redazione giornalistica di Pandora TV e quindi si può riascoltare quel notiziario in lingua italiana e allora ci sono molte diciamo notizie come dire più precise più dettagliate a mio avviso anche più corrette poi ogni tanto c'è anche il commento di Giulietto Chiesa che quindi approfondisce ancora meglio la questione e quindi possiamo avere una panoramica molto più chiara Giulietto Chiesa lo ricordo conosce molto bene la Russia e un po' tutta l'Asia praticamente quindi ecco questo è quello che ci tenevo a sottolineare tornando al discorso che faceva Lorenzo Vardo ecco io volevo un attimo far emergere questo che durante il congresso del centrodestra Alfano ha detto che solamente la destra ha fatto delle leggi contro Cosa Nostra che loro non vogliono niente a che vedere con i voti di Cosa Nostra o Mafia o meglio ancora Cancro Mafia ecco però vedo che non riesce nemmeno a consegnare alla scorta di Nino Di Matteo il dispositivo Bob Jammer quindi questo mi fa abbastanza pensare cosa dite voi giù a Bari che è una bella contraddizione in termini brava esatto direi che è una decisa contraddizione ma se consideriamo che il Viminale sabato era a loro dire assolutamente deserto un appuntamento fissato con larghissimo anticipo quindi suppongo sia stato inserito nell'agenda degli impegni del ministro ritengo che un appuntamento non possa essere più o meno importante di qualche di un altro tanto più quando non c'è un appuntamento con un singolo ma con 350 persone che lo ripeto con tutte le difficoltà che quest'oggi ognuno di noi vive si è spostato dalla propria città dalla propria regione ha magari dovuto prendere anche un giorno di permesso dal lavoro e quindi credo che un sacrificio di questo genere è fatto in virtù di una convinzione profonda come quella che la giustizia e la legalità devono essere i cardini sui quali poggia uno stato che si definisce democratico penso che il nostro ministro abbia dimostrato scarsissimo rispetto ed è stato profondamente irriguardevole nei confronti della memoria di chi ha perduto la vita per i concetti di legalità e giustizia peccato che stiamo parlando del nostro ministro Alfano credo che si debba parlare anche di uno stato virtuale rosario ma guardate io non mi meraviglio di quello che è successo sabato scorso a Roma quando Salvatore Borsellino e gli altri hanno portato queste firme non mi meraviglio se voi andate a ascoltare sul sito del Parlamento quello che è successo oggi quando ha parlato non so se oggi e ieri il ministro riguarda la legge che stanno facendo vi rendete conto di che Parlamento di che Senato di quali politici noi abbiamo quindi non mi meraviglio la cosa però che io vorrei a questo punto che tutta sta battaglia che è stata fatta per il Bob Jumper lì scusate come lo pronuncio non venga che non finisca lì con questa consegna delle firme la cosa che mi preoccupa è quella perché abbiamo visto che di poter dire che almeno noi non consentiremo che questo avvenga noi no però riguardo a sabato se voi avete ascoltato bene un po' tutte le i media io ci ho fatto molta attenzione di Salvatore Borsellino delle Agende Rosse di chi era presente a Roma non se ne è parlato ma si è parlato solo dell'altra manifestazione dove ci sono stati degli scontri dove ci sono stati dei feriti anche gravi certo e teniamo conto che di fronte a una situazione di questo tipo il ministro Alfano non era al Viminale no non era al Viminale perché stava parlando al congresso di NCD del nuovo centro-destra del suo partito al congresso del suo partito certo stava facendo festa lì quindi parlando di mafia parlando di mi sembra che l'attinenza ci sia quindi io ecco non mi meraviglio perché sono non mi sono assuefatto questo perché mi scandalizzo sempre mi irritano sempre queste cose però conoscendo questi politici della prima repubblica della seconda repubblica e se continuano questi qua anche con la terza la quarta repubblica noi avremo le stesse identiche cose avremo gli stessi identici comportamenti tutto qua Rosario ragazzi non ci scordiamo che stanno facendo stanno stravolgendo la legge stanno nella costituzione con un condannato in via definitiva insomma con uno che è delinquente perché uno che è condannato domani mattina vanno a prendere Rina si porteranno anche Rina al Nazareno e insieme a Berlusconi a Matteo Renzi si sarà anche Rina a discutere della nostra costituzione delle nostre legge ah no l'hanno già fatto e quindi l'hanno già fatto Rosario adesso stanno solo formalizzando Rosario io temo per quegli ospiti di quelle case di riposo lì possano essere un po' deviati ma no perché lui fa la propria di convincimento per farsi votare per far votare il suo partito no come si diceva prima con Lorenzo e io di questo sono fermamente convinta il cambiamento deve cominciare da noi deve cominciare dalla nostra quotidianità deve cominciare dall'azione quotidiana di ogni singolo cittadino che la deve smettere deve smetterla di sentirsi passivo e cominciare a comprendere che il suo ruolo attivo è fondamentale è davvero fondamentale va bene Massimo hai delle ultime news da darci? sì dunque le sto appunto adesso consultando un attimo sto guardando nella rete c'è una sì c'è una news che comunque ci porta un attimo fuori tema poi ritorneremo altrimenti su questa cosa qui ecco riguarda il social network facebook dunque la diffamazione via facebook si realizza anche se avviene in forma anonima così la Cassazione che ha annullato la soluzione accordata ad un maresciallo della quale di finanza di San Mignato che sui social network aveva offeso la reputazione di un collega pur senza nominarlo esprimendo giudizi poco lusinghieri sul suo conto per corte il reato di diffamazione non richiede il dodo specifico essendo sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che venga a conoscenza di più persone ecco spero che sia capito perché sia un po' ecco allora praticamente bisogna proprio stare attenti anche quando si scrive sul facebook perché tutti pensano che gli si possa scrivere qualsiasi cosa invece no bisogna stare un po' attenti a non andare a rischiare di diffamare altri il nostro prossimo sostanzialmente altre persone poi vediamo se abbiamo qualcosa dell'ultima ora vediamo un attimo se riusciamo qui ad aggiornare no non ci sono altre ultime ore niente qui per il momento è tutto io restituisco nuovamente la linea dunque a Bari bene allora non rimane altro che salutare i nostri ascoltatori dare l'appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18.30 sempre su Sayuz in compagnia di Rosario Moreno grazie per la tua regia Rosario grazie grazie a voi ragazzi in compagnia di Massimo Bonella direttore della testata pianeta pianetaogtv.net grazie Massimo grazie a voi anzi aggiungo una cosa che se entrate nel sito pianetaogtv.net c'è ancora in un page praticamente le due parti della lunga diretta di sabato sulla manifestazione a Roma per quanto riguarda la difesa dei magistrati antimafia di Palermo ecco specifico ogni volta bene questa cosa qui perché riguarda la manifestazione della mattina cioè vuol dire dalle ore 11 alle 13.58 tutto quello che poi è successo nel pomeriggio a noi non ci riguarda assolutamente niente apro una parentesi c'era quel corteo per il diritto alla casa che per me stavano esprimendo anche una cosa più che giusta ci sono state degli sconti perché sono oramai la storia si ripete oramai abbiamo capito è inutile insomma meravigliarsi i soliti diciamo personaggi estremisti che non c'entrano niente con quel corteo che si intruffano creano problemi vanno a dar fastidio alla polizia hanno ferito anche degli agenti e poi c'è come dire tutto ritorna tranquillo infatti poi il corteo è arrivato a fine corsa senza problemi è un po' come un temporale è successo questo breve temporale quattro tonate e poi tutto è andato una volta tolto via diciamo il marcio ecco che il corteo poi ha proseguito regolarmente giusto per mettere un attimo i punti sulle i quindi se andate ripeto dentro alla testata online di pianetaogitv.net emittente online all news c'è questa diretta realizzata lo ricordo insieme a Syrus web network proprio grazie a Syrus che siamo riusciti a fare questa diretta perché lui è proprio trasmettente in streaming dunque ci dà la possibilità di fare questi collegamenti un po' da tutta Italia e poi stando sempre nella home page potete anche seguire intanto il notiziario di Pandora TV e altri articoli molto interessanti che ci sono anche a carattere locale e poi c'è anche un video di Antimafia 2000 potremmo quasi dire Antimafia 2000 TV perché questo sarebbe anche un'idea da poter portare avanti poi in testa cioè in taglio primo c'è un video che riguarda l'ufologia praticamente tratto dalla trasmissione di Televisa a Messico condotta dal noto giornalista Jaime Mossan dove praticamente si intitola cioè UFO sopra città del Messico e ci sono veramente degli oggetti particolari che insomma merita di andare a vedere c'è la traduzione anche in lingua italiana dunque è veramente tutto da Pianeta Oggi TV a questo punto io saluto tutti quanti circolarmente da Bari a Antonella Intranò Ugo Lombardi e quindi alla regia centrale Rosario Moreno a Treviso e naturalmente tutti i nostri ascoltatori ricordo altresì ancora che questa trasmissione spazio aperto versione radiofonica sarà presente anche poi all'interno di Pianeta Oggi TV punto net e così anche il notiziario di domenica mattina Ecomondo 2000 poi vediamo Antonella se riusciamo anche a poter portare vento la trasmissione della nostra collega Francesca di Radio Gubbio in modo che così abbiamo un po' tutta quanta come si può dire un punto di incontro mediatico cerchiamo noi quindi appunto di unire le forze almeno dal punto di vista mediatico queste televisioni radio locali radio online tv online per portare avanti questo messaggio per la vita grazie a voi per la chiusura grazie Massimo lo faremo senz'altro parleremo molto presto con Francesca e con Marco per intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori diamo l'appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 18.30 sempre su Sayus web tv ciao arrivederci a mercoledì prossimo ciao a tutti ciao ciao